Siamo vicino alla SIEM e questa è la distanza tra la SIEM e la prima casa che si trova qui vicino. Non sono 400 metri, in linea d'aria saranno sì e no 100 metri, quindi abbiamo dimostrato che quello che sta scritto nel progetto non è verità. Grazie. Questa invece è la visuale da parte della fabbrica. Come vedete la prima casa sta a poco meno di 300 metri di strada e a 100 metri in linea d'aria.